Ma che spettacolo, ragazzi! Guardate che spettacolo! Vero spettacolo! Perché me la sto godendo così tanto oggi? Perché non solo l'analisi di tre giorni fa era corretta, ma anche perché finalmente chi mi ha criticato sotto questo video, quello precedente di Bitcoin di un giorno fa, capirà che uno, criticare target dati di salita, una salita che io mi aspettavo, non gli altri. Se il target non viene preso dello 0,05% con un errore dello 0,05% fa ridere, ok? Fa ridere! Cioè, provvede un movimento, succede nel tempo in cui mi aspettavo, entro i giorni giusti, si sfiora il target corretto e qualcuno su un'analisi gratuita si permette di puntualizzare che il target non è stato preso con un errore dello 0,05% su Bitcoin? Ragazzi, analisi gratuite! Avete guadagnato non esattamente quello che vi aspettavate con un'analisi gratuita e vi lamentate o puntualizzate? Alcuni hanno persino detto che non conosco le regole, però si sono dimenticati di una piccola cosa, a parte che le regole le ho scritte io, ok? Perché l'evoluta è mia. A parte che non hanno ascoltato i video precedenti in cui parlavo di tempo puro, ma sono lì a disposizione di tutti. Si sono forse dimenticati anche una cosa, che criticare in anticipo sul tempo una persona che magari ha un po' più di esperienza di voi nel trading, forse non porta bene. Perché adesso, cos'è che mi raccontate dei target non presi dello 0,05%? Scusate, perché a me viene troppo da ridere quando vedo le critiche. Soprattutto di gente non preparata. Non preparata. Perché se andate a rivedere il video Bitcoin tre giorni, che è arrivato quattro giorni fa, ricorderete tutti, vero, che oltre a tre giorni c'è sempre, non ogni tanto, ma non l'hai mai idea, no no, c'è sempre una cosa più un'altra da considerare. La prima cosa è quella che era stata detto qui, spike eventuale, quindi massimo con candela rossa. Il massimo è arrivato. Vediamo, ma a chiusura della candela si diventerà rossa. Quindi prima cosa vi siete un attimo dimenticati, ragazzi miei. Eravate troppo intenti a criticare un errore dello 0,05%, pochi, per carità, tutti gli altri facevano complimenti. Tanti fanno complimenti. Pochi a cavaldonato si lamentano. Analisi gratis. Ok? Guadagni. Ti lamenti? La stiamo scazzando. Poi ognuno faccia quello che vuole. Il mondo è perfetto così com'è. Ma certo, chi si lamenta, per me può non entrare nel premium mai. O per me può smetterla di seguire il canale. Perché qui noi ci prendiamo sui movimenti, gli altri non so. Ecco perché ha senso cancellare le iscrizioni da canali che continuano soltanto a sbagliare o a dirvi non so dove va perché il mercato è difficile, le cripto sono incomprensibili in questo momento e tutto quello che volete. Ma ribadisco, ritorniamo indietro. A parte che criticare prima che finisca il tempo vi porta a piangere dalle risate. O solo a piangere. Perché adesso i target ci sono. Nel tempo dato? Sì. Con Spy Crossa? Sì. Ma soprattutto chi critica e dice che io non so le regole. Ok? Vado oltre le regole già dette negli altri video, peraltro. E alcune? Di alcune non parlo, ma non è questo il caso. Ne parlo soprattutto nel premium. E c'è una piccola cosa che avete dimenticato. Ma sono regole, eh? E voi venite a insegnarle a me. La piccola regoluccia, che forse qualcuno si è dimenticato, pochi eh, per carità, gli altri hanno tutti i commenti positivi, è questa. Allora, quando ci sono tutti i termini del tempo puro per andare a chiudere un T più 2 inverso e anche un T più 3 inverso, cosa può succedere? Che parte un nuovo T più 3 inverso o anche soltanto un T più 2 inverso, ovvero un mensile e un trimestrale inversi. Oppure capita una cosa che però, se conoscete le regole, dovreste sapere. Se no, siete voi che criticate, che non conoscete le regole. E la regola è che, chiuso un mensile, o parte subito un nuovo mensile inverso, chiuso un trimestrale, o parte un nuovo trimestrale inverso, oppure parte un raccordo. E in questo caso un raccordo inverso. Dimenticato? E io no, io le regole le scrivo, le conosco bene. E so che a volte si va a chiudere e a raggiungere i target grazie a un raccordo che si aggiunge al tempo massimo che abbiamo. Perché è vero che qui siamo arrivati a 43 barre ancora, ma qui non ci sta. La barra verde sul quinto T meno 3 inverso, che può aver chiuso a 10 barre. E dopo la decima, con tutti i crismi per chiudere un T più 3 inverso, può essere partito che cosa? Un raccordo inverso che è nelle regole, che però non vi siete ricordati, amici che criticate. Prima del tempo, perché oggi scadeva il tempo, non quando siamo già andati a target due giorni fa. Non su questa candela qua, mi spiace. E ve l'avevo detto nel video. Massimo, il tempo che può più spike e candela rossa. Ma ragazzi, vi siete pure dimenticati dei raccordi inversi, come dei raccordi. E avete voluto criticare chi, forse in questo momento, vi sta dimostrando di saperne un pochino di più. Voi che cosa dite? Questa è spocchia? E voler fare il grande vantarsi, eccetera? No, questa si chiama autorevolezza, di uno che non è che ci ha preso per caso su una criptovaluta che tanti non affrontano neanche con l'evoluta, o con la vecchia cicla. Anzi, con l'evoluta non possono, perché ce l'ho solo io. Ma è uno che, se andate a vedere anche le altre analisi, fatte nel weekend, salita per minimo un giorno di 6, stiamo salendo. Salita da vincolo su inverso, MIB, stiamo salendo. Dax, inverso vincolato e rialzo e stiamo salendo. Guardateli qua. Rialzo. Rialzo. Tra l'altro noi abbiamo fatto lo shot, io ho occupato, non sono riuscito a rimettermi in the long, ma questo è un altro discorso. Ovvero, questo non è per farvi vedere dei risultati e vantarmi, ma è per dire che io forse un po' di autorevolezza ce l'ho per parlare. Viceversa, se pensate di essere più bravi di me, apritevi un canale, fatelo almeno superare i 13.000 erotti iscritti, ok? E mi dite, prima però che le cose succedano, dove si va, se si sale o se si scende. Questo è quanto. Questo video è registrato soprattutto per chi è appena arrivato sul canale. Soprattutto per i nuovi. A me spiace non parlare subito di tecnica come ho fatto nell'ultimo intervento, ma ogni tanto, quando ci vuole, vi assicuro che ci vuole. E questo è il momento in cui ci vuole. Per cui, facciamo il punto adesso, da adesso in avanti. Se questa candela diventa rossa e si svuota completamente, ovvero se, fatto questo massimo, undicesimo t-3, controllate tutti i tempi, è tutto corretto. Siamo a 29 bar oltre le 24, quindi perfetto. Se si piombasse giù, sarebbe esattamente quello che ho detto nell'analisi di tre giorni. Al massimo tre giorni più candela rossa con spike, a rialzo. Quindi, chi ha criticato, nell'analisi di ieri, ciao, ascoltatela meglio la prossima volta. Avete criticato in anticipo? E poi, caspita, siamo andati a target, tutti i target, questa volta presi, tutti. Non errore dello 0,05% che soltanto dirlo mi viene da vita. Quindi, se si ritorna giù, analisi corretta. Se non si tornasse giù, vi siete dimenticati che da qui può partire un raccordo dopo la chiusura del t-3 inverso o del t-2 inverso. E quindi, che cosa può succedere? Ed ecco perché questa mattina ero molto attento a muovermi short. E che cosa dicevo? Alle 12.46, dicevo buongiorno, tanta noia ma, eravamo qua, eh, con potenziale inizio di discesa. Dove è iniziato il secondo t-3 inverso? Teoricamente, dove l'ho messo e non sul punto di domanda precedente, ok? Quindi, visto che oggi è l'ultimo giorno per un eventuale spike e candela rossa, ho proprio quello che qualcuno si è dimenticato. Qualcuno si è dimenticato, non io, conosco le regole, le scrivo. Vediamo cosa si inventano. E ci siamo vincolati al rialzo sull'ultima corda di salita che può fare un ciclomotore inverso. Se fossimo partiti da qui o da qui come t-3 inverso, comunque c'eravamo amicolati al rialzo. Ma dimmi tu, vuole esserci una spike all'ultimo giorno, ok? E poi, ovviamente, è arrivato quello che doveva essere arrivato e noi non eravamo short. Chi non conosce le regole magari avrebbe anticipato pure lo short. E però, oggi, paga d'azio di aver fatto forse un po' il gradasso. Giusto? Ok, rimettiamo un po' le cose a posto. A questo punto, ribadisco, si scende e quindi, analisi corretta, non si scendesse. Ricordo a tutti quelli che mi ricordavano che non sapevo le regole, che invece ci sono tante volte ribadite nei video precedenti, che qui ci può essere un raccordo di che grado. Ovvero, quanto si può ancora salire per un raccordo? Semplice, sempre regole. Tre gradi inferiori rispetto al ciclo che precede e che può seguire. Quindi, minimo, un t-1 che dura minimo tre giorni, siamo a 1, 2, mancherebbe il terzo. Però poi va a 5, quindi due giorni consumati, altri tre di salita. Oppure, eventualmente, dato che chiude anche un t più tre inverso, e non sappiamo se siamo su un tre tempi o un quattro tempi, o un due tempi o un tre tempi, anche una settimana. Un settimanale inverso può durare ben oltre. E quindi può farci salire per quanto tempo. Se abbiamo già consumato due barre, un settimanale pieno inverso può arrivare anche fino a 11 barre. E quindi, fino a quanto? Eh, fino a qua, fino al 3 di novembre. Questo raccordo inverso tra un trimestrale inverso, oppure un mensile inverso, un altro mensile inverso di un tre tempi. Peccato che non ve lo siate dimenticati. Peccato che ve lo siate dimenticati. E quindi, sapete che cosa me ne faccio delle critiche di chi non è preparato come me? Guardate la spalla. Spallucce. Ok? E dimostro sempre nei fatti, ok? Che cosa faccio o che cosa non faccio. Ok? Va bene. Questa è autorevolezza. Non tirassola. Questo è fare sempre attenzione, prima non perdere i soldi, tutti in gruppo, eventualmente evitando di anticipare i discesi e ricordandosi che questi sono raccordi possibili. Ok? Ci sono sempre raccordi. Quando chiude un ciclo ci può sempre essere un raccordo. quindi, la regola è non anticipare mai perché se no ci si trova in difficoltà. Quindi, lato inverso tutto torna e ficchiamocelo qua un bel raccordo. Ok? Così tutti si potranno ricordare da adesso in avanti che ci può essere un raccordo e che può essere di durata o di t-1 inverso o di t inverso o tra due mensili inversi o tra un t più 3 inverso e un t più 3 inverso ovvero tra un trimestrale inverso ed il successivo. Prima cosa. Ricordatevela. Quindi, questo può durare ancora un giorno oppure altri tre giorni di salita in media cioè al massimo se è un t-1 oppure molto di più come vi ho detto. Riascoltatele le analisi più volte soprattutto se siete all'inizio. Le regole sono solo fondamentali e c'è chi dimostra di conoscere e c'è chi no. E come vi dico sempre nel circolo virtuoso un atteggiamento polemico non serve a niente. Non ci sono problemi ci sono opportunità nella vita. ma potete continuare a vedere problemi quello 0,05% oppure potete vedere opportunità aspettare fino al giorno di candela con massimo spike rosso o di raccordo e si può ancora salire oltre i tempi normali e tutti sanno che esistono i raccordi nelle regole. L'atteggiamento critico criticare oltretutto persone che dimostrano nei fatti di saperne S&P DAX NASDAQ Nib tutti corretti come analisi ok ha un senso serve a qualche cosa oppure solo un'alimentazione dell'ego delle persone che puntano il ditino ricordatevi che c'è una regola davvero divertente ok quando qualcuno vi punta il dito contro ah hai sbagliato ricordatevi che un dito è puntato verso di voi altri tre sono puntati verso la persona che punta il dito verso di voi ha senso? a voi la risposta quindi sapete ancora per quanto tempo al massimo si può salire come detto massimo 11 bar se sarà un raccordo tra un TP3 inverso e un TP3 inverso quindi fino al 3 11 ma in realtà come sapete si potrebbe ancora salire solo eventualmente per domani se fosse un raccordo tra due bimestrali due mensili ok due TP2 inversi minimo un giorno massimo nove giorni di salita non ve lo scrivo nel titolo questa volta come ci muoveremo? noi abbiamo solo guardato l'inverso non abbiamo ancora guardato l'indice e ricordatevi che tanti che parlano di ciclica non tengono in conto dell'inverso e quindi non oso pensare quanti errori rischino di fare lato indice ovvero lato prezzi siamo a 5 giorni possiamo ancora salire? sì per quanto tempo al massimo? per 5 candele ci sta una salita che può durare anche un settimanale inverso due le abbiamo già fatti ce ne aggiungiamo 5 arriviamo a 7 quindi arriviamo al 30 di 10 di salita alternata discesa salita discesa salita discesa lo dico perché poi i commenti sono la qualunque purtroppo essendo diventati veramente molto grossi come gruppo ed essendo cresciuti tanto spazio c'è ricordiamoci solo che primo settimanale secondo settimanale per andare a chiudere un t più 1 e per far partire un secondo t più 2 perché qui parto un secondo t più 2 aspettavate così poco di salita sì sì come tempo c'era assolutamente invece non avrete considerato l'accordo inverso ma per salire appunto andremo poi anche a chiudere che cosa? un bisettimanale inverso un bisettimanale lato indice e quindi non ci basterà soltanto un t meno 3 ribassista ma ci servirà un t meno 2 ribassista ok? quindi un ciclo a due giorni ribassista ma non due giorni due giorni normali due giorni che sono 6 per 24 barre di tempo puro lo anticipo per sicurezza per chi non fosse così avvezzo alle regole che soddisfazione oggi veramente non ho guadagnato ok? ma cavolo se me la sto godendo vi auguro ogni bene possibile soprattutto di ragionare sul vostro atteggiamento vedete sempre problemi e criticate sempre la gente oppure vedete opportunità nei problemi opportunità di imparare qualche cosa anche sui mercati e magari grazie all'opportunità non limitate chi siete e vi aprite sempre a continuare a imparare le cose la scelta sta a voi non c'è nessun altro che possa fare questo genere di scelta potete diventare trader profittevoli oppure criticare i trader profittevoli in anticipo rispetto alle scadenze in cui si può arrivare ai target a uno non la sua scelta io la mia l'ho fatta buona serata a tutti che c'è nessuna oi oi o o o o o o